Partiti in questo momento, calcio d'inizio della città di Messina che manovra sul settore sinistro con Mondello Le ultime gare certamente non positive, attenzione però al città di Messina, subito ci prova con il sinistro C'era L'Occisano fuori dai pali, spazio davanti a sé sulla destra, supera un avversario con un buon dribbling Poi l'esterno per incoronato, limite dell'aria, ancora pallonetto, ci prova con il destro, blocca Molto bene, di Dio, esposito al limite, pensa al tiro, poi serve Yanni, è lui in aria Verso incoronato che ha provato il tac Savoia c'è, è vivo e Giraldi recupera la sfera servendola a Savarese, siamo alla tre quarti Il tocco per incoronato, Savarese al limite, attenzione il sinistro, di Dio, ci arriva La stessa parte Guarro con il sinistro, palo e gol, gol, Savoia in vantaggio Marco incoronato, di testa, ha raccolto la respinta del palo sulla posizione perfetta, calciata da Guarro Siciliani termina a terra, il direttore di gara gli indica di rialzarsi, ammuso duro, attenzione Ancora il città di Messina però in area di rigore, con questa percussione, al centro Saraniti, rete Rete, il pareggio del città di Messina, l'errore stato di Giraldi Esposito e serve ancora verso pallonetto, attenzione, ottimo spunto, il destro di pallonetto La parata però, giocando molto bene, Marco incoronato, in possesso di palla Il tocco per Savarese, siamo al limite, entra in area Giuseppe Savarese Il sinistro che non prende però il giro giusto Tiene abbastanza confusa quella del Savoia, poi Guarro potrebbe metterla al centro Lo fa in questo momento, un buon cross per il coronato Copere Esposito, insolitamente in posizione avanzata Savarese in area di rigore, attenzione, il cross con il destro, ci arriva di Dio Esposito, la rete, rete, il Savoia in vantaggio Il secondo gol in campionato di Gianluca, Esposito Un momento anche al tiro, Esposito, ancora grande intervento Sfera che però perviene a Citro, Traversone verso Tiscione Che si coordina con il sinistro Di poco fuori, Siciliano, il tocco per Citro Citro è un ottimo movimento, ai danni di un avversario Tiscione, Citro, sinistro Che brividi Bentornati amici ascoltatori, Salvatore Piro collegato in diretta dal giro di Torre Annunziata Lotti, attenzione, allora Tiscione per il Città di Messina Buona chance, al limite dell'aria, il tocco In area di rigore, si salva L'area di rigore, poi scivola, allora Saraniti Traversone, tutto solo Tiscione E il miracolo di Lo Cisano Se la cava bene, il Città di Messina Il Savoia è tutto in avanti E c'è il lancio per Citro Attenzione, in area di rigore, il numero 11, col sinistro Lo Cisano Il Savoia è tutto proteso Nella propria area di rigore Per cercare di Mantenere in vantaggio Ancora una volta la conclusione di Citro Savarese in surplus Supera un avversario Bene, si porta al limite dell'aria C'è Ianiello vicino a lui Ianiello pronto a calciare con il sinistro Troppo però centrale Facito campista che ruba palla Attenzione, si porta al limite Il destro La parata Cappello Lancia in avanti di Camarda Attenzione, buona opportunità per il Città di Messina Proprio nel finale, in area di rigore Il destro Fuori Grazie a tutti 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 Grazie a tutti